Ancora uno spacciatore in manette ad Arezzo. Si tratta di un 39enne albanese con precedenti per spaccio. Era da qualche giorno che gli agenti avevano notato gli strani giri in bicicletta che l'albanese faceva nella frazione di Bagnoro, dove tra l'altro risiede. Era proprio durante le passeggiate in bicicletta che l'uomo incontrava i suoi clienti tossicodipendenti ai quali cedeva le dosi di cocaina. Lo scorso giovedì, dopo aver accertato l'ennesima cessione, gli uomini della squadra mobile di Arezzo sono intervenuti bloccando l'albanese e perquisendo successivamente la sua abitazione. All'interno sono stati rinvenuti nascosti in una confezione di caramelle altri 25 grammi di cocaina già suddivisi in dosi e 8 grammi di marijuana, oltre a strumenti per il confezionamento delle dosi. Nel corso dell'operazione sono stati sequestrati anche 650 euro chiaro provento di spaccio. L'albanese con alle spalle precedenti penali per spaccio è stato quindi arrestato e si trova presso la casa circondariale di Arezzo.